Allora per adesso c'è la sedia vuota ma sta per essere riempita, sta per arrivare il più grande dei grandissimissimissimissimissimi ospiti di Diario di Porto della stagione 2024 Allora già presidente della regione e abbiamo detto tutto, presidente della provincia, sindaco di Pescara, già senatore attualmente onorevole che vuoi diffiudare la vita, Luciano D'Alfonso Luciano D'Alfonso fra poco a Diario di Porto, dai!